Premira è una soluzione di ultima generazione high-end che ridefinisce lo storage per l'applicazione di mission critical. Le soluzioni Premira servono per chi ha bisogno di storage per l'applicazione di livello mission critical e per chi ha la necessità di zero tempo di downtime. La soluzione Premira si differenzia dal resto dell'offering per quanto riguarda la variabilità del dato al 100%, una semplicità d'uso molto avanzata e un tempo di deploy estremamente ridotto, il tutto grazie anche a InfoSite che è inclusa in ogni Premira. La soluzione Premira si posiziona a metà rispetto a quello che lo offre in DHPE tra Tripar e XB7, essendo uno storage di fascia medio-alto. Premira si sposa alla grande per quanto riguarda le necessità di virtualizzazione, di utilizzo di containers e anche e soprattutto per quanto riguarda gli applicativi database di Oracle O.S.Q.L.